Stop agli espositori che provengono dalle zone focolaio. La fiera antiquaria di marzo dunque si farà, ma con queste restrizioni. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha infatti emanato una circolare destinata agli uffici e alle strutture ricettive della città, in vista dell'appuntamento del prossimo fine settimana. Le linee guida della circolare spieghe in una nota in relazione alle precauzioni dettate dall'epidemia di coronavirus sono chiare. Niente espositori che provengono dalle zone rosse, indicazione alle strutture ricettive di non ospitare chi arriva dai comuni in quarantena ed infine nel caso di informare gli organi preposti. Il comune di Arezzo ha assunto un atteggiamento iperprudente, ha spiegato il sindaco, e ha attivato misure di massima prevenzione. L'appuntamento della fiera ci ha messo dinanzi alla necessità di contemperare due esigenze, la sicurezza dei cittadini, che è e rimane primaria, e la volontà di non penalizzare un settore importante per l'economia. La scelta fatta è stata quella di applicare restrizioni certe, soprattutto attivando controlli che possono garantire la nostra città. Ho chiesto una stretta collaborazione non solo agli uffici comunali, affinché non vengano accolte richieste di spuntisti provenienti dai comuni focolaio, ma mi appello anche al senso di responsabilità dei gestori degli alberghi e di ogni tipo di struttura ricettiva, ai quali è stato fornito un elenco preciso dei comuni delle zone rosse, i cui residenti non possono essere accolti. È importante e necessario, conclude Ghinelli, che in questo momento tutti si adoperino con criterio e chiarezza di informazioni. Grazie a tutti.